Venerdì 13 settembre, notte bianca a Belmonte Mezzagno, dalle 21 in due zone della cittadina, palco Libertà e palco Garibaldi, concerti, animazione, musica e cabaret con numerosi artisti, dalla mezzanotte discoteca sotto le stelle con Sasa DJ e il suo staff da Radio Azzurra e da Radio 105 DJ Mitch, direttamente dal programma Tutto Esaurito e ancora Gadgets per tutti, animazione sexy boys and girls, più percussioni e violini dal vivo, artisti da strada e per i piccoli, le mascotte Disney, non mancate a Belmonte Mezzagno il 13 settembre per la notte bianca più bella della provincia di Palermo